Dalla mattina, quando si sveglia e si trucca per filmare la colazione, fino alla sera, quando si fa una doccia e si ritrucca per filmare l'arrivo dei dolcetti sul tavolo della cena. Su TikTok la TikToker e fondatrice del brand amabile Martina Strazzerra chi le ha domandato quale fosse la fatica del suo viaggio di lavoro in Egitto, dove si è recata con altre due colleghe. La critica è stata occasione per invitare tutti a ragionare su come la fatica mentale equivalga alla fatica fisica. E per spiegare una volta per tutte qual è l'organizzazione della giornata di un influencer. Classe 2000, un milione di follower su TikTok, Martina tiene a sottolineare come dietro a quella che sembra spensieratezza c'è in realtà un'intera giornata impostata sulla creazione dei contenuti. E se non li stai creando, li stai comunque pensando, dichiara nell'ultimo video condiviso su TikTok, alla sera eravamo tutti stanchi morti ad editare. Non è giusto fare una gara tra la fatica fisica e quella mentale. Smettiamola con questa gara, perché se fosse così facile lo fareste tutti quanti. Ti ringrazio per aver guardato tutto il video se ti è piaciuto metti mi piace e iscriviti al canale, e attiva la campanella delle notifiche per rimanere aggiornato nei prossimi video grazie.